Il pilastro! Il casino! Comunque un video! Buongiorno Ciao Bianca! Ciao! Ma è un po' bello! Stai facendo il video? Sì. Sono tutti messi bene. Io ho un coso sul naso. Vai, facciamo. Bene. Fino a Lea. Io voglio vedere Riccardi che dipinge. Dov'è andato? Io sto facendo il video. Riccardi è un rappresentante. Guarda in Bianchini 2012. Sì. Io faccio il video. Sì. Sì. Certo, ma loro non hanno le copine. Non si è. Certo. Ecco. La casa treva. Sì. Sì. Ciao. Io faccio il video. Ciao.